impegno. La scorsa estate alla missione stessa di servizio al Paese si è tentato, ed è questo alla fine il motivo perché sono qui, di anteporre una questione sola, tanto da utilizzarla come condizione ultimativa rispetto alla vita dell'esecutivo. Nella vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi non sono entrato in questi mesi e non entro oggi. Accettando l'incarico dalle mani del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, cui va ogni giorno, oltre che la mia gratitudine personale, il ringraziamento per il sacrificio con cui adempie in condizioni difficilissime l'incarico cui questo Parlamento l'ha impegnato per la seconda volta a larghissima maggioranza, avevo però detto che il mio non sarebbe stato un Governo a tutti i costi. Non è stato un Governo a tutti i costi.